A seguito delle dimissioni del sindaco di IV Massimo Carandente Giarrusso, divenute irrevocabili alle 24 di lunedì 30 luglio, il prefetto di Napoli, Andrea De Martino, nella giornata di ieri, ha nominato il commissario prefettizio che dovrà guidare il comune fino alle prossime elezioni. Si tratta di Vincenzo Greco, che concentrerà in sé i poteri del Consiglio Comunale, del sindaco e dell'Aggiunta, già prefetto di Vibo Valenza e Chieti, ha svolto il suo primo incarico commissariale nel comune di Minturno. Il prefetto di Napoli ha inoltre sospeso il Consiglio ed inviato al Ministro dell'Interno la proposta di scioglimento del Consiglio Comunale di IV. Toccherà ora al Presidente della Repubblica adottare il decreto di scioglimento del Consiglio. Una decisione, quella dell'Oramai ex primo cittadino di IV, di non ritirare le dimissioni presentate lo scorso 10 luglio, che non ha destato grande stupore. L'ex sindaco era infatti stato piuttosto chiaro nel comunicare la sua ferma decisione di abbandonare l'incarico. Decisione dal primo momento dichiarata irrevocabile e avvalorata dall'invito al Consiglio a presentare le dimissioni. Invito peraltro disatteso dalla maggioranza dei consiglieri. Appena una settimana fa il Consiglio Comunale si è infatti riunito e si è provveduto alla surroga dei quattro consiglieri dimissionari. Ciò che invece molti probabilmente non si aspettavano, seppure prevedibile, considerati i fatti che negli ultimi mesi hanno scosso il Comune Flegreo, è la decisione del Prefetto De Martino di nominare, su delega del Ministro dell'Interno, una commissione di indagine ai sensi della normativa antimafia, che opererà al fianco del Commissario Prefettizio Vincenzo Greco. La commissione, composta dal Vice Prefetto Fernidinando Mone, dal Maggiore dei Carabinieri Massimiliano Prichiazzi e dall'architetto Liliana Buono, avrà il compito di verificare se vi sono i presupposti per chiedere lo scioglimento del Consiglio Comunale per Infiltrazioni Camorristiche, intervenendo sul diverso versante della verifica di eventuali fatti attinenti non solo alla gestione politica, ma anche a quella burocratica dell'ente, che se dovessero essere verificati, causeranno lo slittamento delle elezioni alla primavera del 2014.